22 gennaio 2022 barone vassallo buonasera a tutti oggi una puntata abbastanza corta perché sono in un ritardo abissale però volevo farvi cogliere una cosa molto importante allora novembre dicembre novembre dicembre ma anche ottobre metterei dentro chi era iscritto alle pagine malori improvvisi nessuna correlazione o comunque che andava dietro a queste notizie ricorderà perfettamente che ogni giorno ogni giorno in queste pagine in queste pagine che parlavano di questi malori improvvisi di queste persone che di colpo venivano prese da infarto da ictus da pericardite le cose più tremende obiettivamente senza responsabilità del sacro rimedio tutte le persone che prima seguivano queste pagine che comunque probabilmente le seguono ancora oggi potranno essersi resi conto che da gennaio nonostante il terzo tempo il terzo tempo inoculato a una grande parte della popolazione questi malori improvvisi sono di colpo diminuiti quasi quasi andati a sparire nonostante il terzo tempo cosa sta a significare questo sta a significare che probabilmente hanno cambiato qualcosa tant'è che tutti quelli che fanno il terzo tempo si raffreddano si prendono l'influenza si prendono nel raffreddore però non hanno più quelle botte terribili che hanno fatto da elemento principale tra ottobre novembre e dicembre fateci caso i malori improvvisi le pericardite gli ictus le trombosi di colpo da gennaio non ci sono quasi più nonostante abbiano messo questo terzo tempo del sacro rimedio che l'unica cosa che ha portato come le vecchie come le vecchie influenzali influenzali come le vecchie influenzali ha portato soltanto a stare male influenzati raffreddati 10 giorni con la febbre 15 giorni con la febbre credo che questo dovrebbe farci pensare forse avevano capito che qualcosa stava sfuggendo di mano e hanno dovuto fare un leggero passo indietro altrimenti il terzo tempo non l'avrebbe compiuto nessuno più fateci caso bene per oggi vi saluto perché sono in un ritardo abissale ci vediamo domani e buon weekend a tutti